Buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è lunedì 26 giugno 2023 e vediamo subito chi si festeggia. È un santo particolare, un santo che visse ai primordi della Chiesa. Lo vediamo qui, è San Vigilio. San Vigilio è il patrono del Trentino e dell'Alto Agice. Operò per la conversione dei valligiani. Siamo ancora nel IV secolo, c'erano ancora molti, molti pagani da convertire. Vigilio subì il martirio, essendo lapidato, dopo aver abbattuto una statua di Saturno adorato come dio dell'agricoltura. I valligiani ovviamente si risentirono e inveirono contro il vescovo. Vigilio era vescovo e lo lapidarono e quindi Vigilio morì. Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Oggi bel tempo su tutte le marche, lo vediamo qui sulla grafica. Abbiamo sempre il sole, un cielo terzo sulle marche con valori massimi in ulteriore lieve ascesa. Venti tra deboli e moderati da nord in spegnimento serale. Le temperature si aggireranno tra i 21 e i 30 gradi. I venti sulle coste espireranno da nord e nord-ovest, mentre nell'interno da nord. Quindi una temperatura gradevole, il mare leggermente mosso, ma vediamo come è esattamente la situazione del tempo sulle coste dell'Arzilla di Fano. Abbiamo con noi in collegamento Stefano Tanfani, il concessionario di spiaggia dei Bagni Arzilla. Buona giornata Stefano. Ci senti bene? Buongiorno, buongiorno. Sì, sì, mi sento bene. Sono Nicola Tanfani. Oh, scusami Nicola. Niente, non c'è problema. Avevo ancora in mente un nome e in testa, dato dalla rassegna stampa, è benvenuto Stefano. Nicola, Nicola, il cielo azzurro dietro di te lascia capire che oggi sarà una bellissima giornata, vero? Sì, molto bella, sole già caldo e cielo senza una nuvola, mare abbastanza calmo, quindi ottima giornata si pronuncia. Diciamo subito una cosa e facciamo subito chiarezza. Le acque della costa dell'Arzilla sono limpide, sono salubri e sono perfette, è vero? È vero, magari sulle limpide ci sarebbe qualcosa da ridire, però l'acqua è tornata balneabile finalmente, poi dopo questi due giorni di Maretto speriamo che abbia ripulito il fondo per tornare bella come l'anno scorso o l'anno prima ancora. Insomma, l'Arzilla, il torrente è un po' un problema per voi bagnini in quella zona? Allora, sì, ma non tanto il torrente Arzilla perché comunque con gli interventi che hanno fatto gli anni passati con la vasca di prima pioggia, eccetera, la situazione era migliorata molto. Quest'anno purtroppo, 15 giorni prima della stagione è successo quello che è successo e tanto fango è venuto al mare, tanto è normale, i fiumi vengono giù a mare, noi siamo proprio di fianco e quindi magari siamo un po' più penalizzati. Però, però ecco, diciamo che non ci facciamo abbattere, dai. Comunque sabato scorso personalmente sono venuto alla focce dell'Arzilla e ho visto poco più in là del ponte che attraversa la ferrovia un bellissimo airone cenerino che pescava col suo becco e mangiava i pesciolini. Quindi vuol dire che la situazione ambientale è veramente molto compatibile, molto bella insomma. Quindi l'Arzilla, oltre ai problemi del fango, c'è anche un sistema ecologico che è bello da ammirare. Questo vi fa onore. No, diciamo che infatti l'acqua, batteriologicamente parlando, sono pulita, infatti sono tornate anche le meduse, come dice lei, diversi tipi di uccelli, pesci, eccetera. Quindi l'acqua è pulita, però purtroppo ecco non è limpida come in altri punti, anche perché abbiamo un fondale sabbioso e quindi avere un'acqua limpida, sai, è difficile. Devono esserci tante cose che si incastrano bene. Nicola, siamo alla fine di giugno. Com'è andato questo mese? Sì. Allora, giugno ce lo siamo un pochino giocato, purtroppo non è stato molto bello. Però noi in spiaggia ci divertiamo, nel senso che comunque il sabato, la domenica, cerchiamo di offrire sempre qualcosa per divertire i ragazzi. Fortunatamente la spiaggia, diciamo, lavora bene. C'è gente, c'è gioventù e quindi non ci lamentiamo assolutamente. Certo, il meteo poteva essere un pochino più clemente quest'anno, però abbiamo fatto, io dico sempre, veniamo da due stati con zero giorni di pioggia. Quindi se quest'anno purtroppo un attimo ci ha badato per partire, magari ci regalerà un pochino, una stagione un po' più lunga alla fine, dai, settembre. Benissimo. Sappiamo tutti che la spiaggia dell'Arzilla offre tanti servizi, soprattutto campi sportivi, quindi i ragazzi sono veramente attratti da questa zona. Avremo modo di parlarne nel corso di questa settimana. Intanto ti salutiamo, Nicola, ti auguriamo una buona giornata. Buona giornata. E ci risentiremo domani. Grazie, buon lavoro. A domani, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, grazie. Ed ora apriamo i giornali. A partire oggi dal resto del Carlino, abbiamo la prima pagina con tante notizie. L'edizione comunque è un po' ridotta, essendo il lunedì. Vediamo subito il sunto delle notizie che riguardano la provincia di Pesaro. E purtroppo, purtroppo abbiamo delle amare notizie. Sfuggono ai carabinieri e travolgono un'auto. Muore una donna. Perde la vita anche il conducente della BMW. Altri tre feriti non si erano fermati all'alte. Procurato dai carabinieri, andavano ad altissima velocità. Vedremo poi questa notizia, la svilupperemo all'interno. A Fano un altro incidente stradale. Più che a Fano, insomma, sulla strada dell'entroterra. Finiscono in un canale con la Golf, però questi si salvano. E oggi a Pesaro si svolge il CDA di Marche Multiservizi. I comuni chiedono più spazio. Sulla pagina di Ancona vediamo il sindaco che scende in campo dopo l'appello del Carlino. Non è vero, dice che la città si svuota in questi mesi. Qui l'estate sarà piena di iniziative. Quindi iniziative anche nel comune d'Orico. Minaccia e perseguita gli ex datori di lavoro. Arrestata una giovane dopo esser stata licenziata. Una tragedia invece muore a 81 anni mentre gioca ad una gara di bocce. A Macerata resta schiacciato da un mezzo agricolo in un capannone. Mentre a Civitanova paura in spiaggia. Una ragazzina perde i sensi e rischia di annegare. Guardate quanti incidenti, quanti problemi ci sono evidenziati nel corso del weekend. Anche ad Ascoli e a Fermo non è andata diversamente. A San Benedetto Malore nella casetta mobile della Caritas muore un 48enne. A Porto San Giorgio turismo. Consegnate le bandiere blu a 18 comuni. Mentre ad Ascoli Piceno si parla di Quintana. Si avvicina Sant'Emidio, la festa appunto del patrono della città. Sant'Emidio sta cercando un cavaliere. Ad Acqua Santa ecco il primo punto salute contro le liste di attesa. Allora apriamo il giornale e diamo un'occhiata a quello che è accaduto a Pesaro ieri. Questo terribile incidente stradale. Fugge a 150 chilometri all'ora dopo l'alt dei carabinieri. Centra un'auto, due morti e tre feriti gravi. Questo è il bilancio terribile dello scontro che si è verificato ieri. Nello schianto perde la vita il conducente della BMW che scappava e Martina Mazza, una donna di 32 anni che era a bordo della 500 colpita in pieno. Lo schianto è avvenuto ad oltre 150, pensate, chilometri orari in piena velocità senza alcun segno di frenata. Fuggivano dai carabinieri che poco prima gli avevano intimato l'alta, l'altezza della rotatoria di Villa Fastigi. È veramente una tragedia quella che si è verificata ieri alle 16.35 con due morti e tre feriti sulla Monte Labattese. Questa strada è seminata, seminata di lutti e di rovine, seminata di incidenti. Dunque, dicevo, due morti e tre feriti. Una BMW nera condotta da Sultan Ramadani, di 27 anni, un macedone domiciliato a Sant'Angelo in Vado, con a fianco l'amico Elvis Cola di Monte Calvo in Foglia, entrambi però già noti alla giustizia, si è schiantata contro una Fiat 500 con tre giovani di Vallefoglia che procedeva in senso opposto. L'urto, violentissimo, ha scaramentato la vettura dei ragazzi nel fossato, ad una distanza di almeno 10-15 metri dal punto in cui è avvenuto l'impatto. La passeggera, Martina Mazza, di 31 anni, madre di un bambino di 5 anni, con la casa tra Capone e Morciola, è morta sul colpo. La sorella Alessia, che era la guida, e l'amico Kevin sono rimasti feriti in maniera grave. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Torrette di Ancona. Veramente una tragedia quella che è avvenuta a causa appunto della spregiudicatezza, ma io direi dire della delinquenza, dei tre che non si erano fermati all'alte dei carabinieri. E qui c'è, poverina, una signora di 94 anni che è caduta nel porto a Pesaro e se non c'era il militare della Capitaneria di Porto sarebbe veramente avvenuta anche qui una tragedia. Ebbene, però, la signora è stata salvata grazie a questo militare che si è gettato. L'ha salvata la presa, era esanime, ma poi la signora è rinvenuta. Auto con tre giovani vola nel canale Una Golf si è ribaltata nel Rio Secco, nessuno dei ragazzi grave, solo con defratture. Era da poco passata la mezzanotte e mezza di domenica quando un'auto con tre giovani di Fossombrone ha sfondato il Guardrei in località Cannelle, al confine Trafano e Cartoceto. Finendo nelle torrente che costeggia la strada, pochi istanti dopo aveva portato a casa un quarto ragazzo che aveva trascorso la serata con loro. Quarto ragazzo che ha scampato l'incidente. L'auto, una Golf, percorreva via Cannelle in direzione Pesaro per riprendere la Flaminia quando in corrispondenza dell'ultima curva prima dell'incrocio di Ponte Murello ha tirato dritto sfondando il parapetto di ferro per poi finire nel Rio Secco. Due dei tre giovani a bordo, tutti extracomunitari sono riusciti a uscire da soli e sono loro che hanno chiesto poi aiuto al 112 era un marocchino di 22 anni che era alla guida e un senegalese di 31 che sedeva dietro di lui. Il loro amico era rimasto bloccato nell'altro sedile posteriore quindi immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Fano che hanno estratto, non senza fatica però, il ferito dall'abitacolo. Tutti sono stati trasportati per gli accertamenti del caso all'ospedale regionale di Torrette di Ancona ma appena arrivati il marocchino e il senegalese si sono fatti dimettere senza neppure farsi visitare si sentivano bene e quindi non avevano bisogno di cure. Restiamo a Pesaro per dare un'occhiata all'articolo che riguarda Marche Multiservizi oggi si svolge il Consiglio di Amministrazione ma sarà un CDA di fuoco infatti i comuni chiedono più potere si sa che Marche Multiservizi è una società tra pubblico e privato ne fa parte ERA una Multiservizi originaria dell'Emilia Romagna diciamo così dell'Emilia più che della Romagna e poi ci sono anche altri comuni comunque oggi pomeriggio si decide del futuro assetto di questa Multiservizi infatti si riunisce il CDA e il Presidente Andrea Pierotti dovrà ratificare l'ingresso del nuovo consigliere si tratta di Giuseppe Luccarini indicato dalla provincia ma soprattutto dovrà chiarire al socio privato ERA, il socio privato che poteri, ruoli e scelte vanno riequilibrati ci sono entità che hanno più quote sociali e altre entità, quelle pubbliche, che ne hanno meno ebbene, ora si dovrà un po' rimettere a posto gli equilibri societari per farlo si dovrà mettere mano allo Statuto in modo da mettere al socio pubblico che ha circa il 53% delle azioni la nomina di chi amministra l'azienda che fino a oggi è stata una prerogativa di ERA quindi ci sono delle modifiche sostanziali si parlerà soprattutto della discarica di riceci una discarica che ha testato tante tante polemiche ERA intende realizzarla avendo fatto stanziare 3 milioni di euro a Marche Multiservizi per subentrare al socio privato di Aurora SRL la società che ha comprato i terreni e ha pagato ha pagato lei stessa il progetto esponendosi per circa un milione di euro quindi non poco Ed ora diamo un'occhiata invece alla pagina di Ancona dove vi avevo annunciato l'articolo che riguarda una ragazza che è stata licenziata e quindi perseguita gli amministratori dell'azienda dopo il licenziamento minaccia e perseguita gli ex datori di lavoro arrestata una giovane cosa aveva fatto? aveva così spedito messaggi ingiuriosi nei social vendicativi anche attraverso i network si tratta di una 22enne bengalese non aveva accettato di essere allontanata dal locale dove lavorava aveva già ricevuto un ammonimento di avvicinamento delle sue vittime ma ha fatto orecchie da mercante e quindi continuava a inviare giorno e notte questi messaggini era stata licenziata la scorsa estate da un esercizio pubblico ed allora si sarebbe resa protagonista di una serie di condotte persecutorie e diffamatorie nei confronti dei due titolari dell'attività e dei loro parenti addirittura la giovane avrebbe pubblicato e inviato al compagno al fratello alla sorella della persona offesa una serie di messaggi ingiuriosi e minacciosi attraverso i principali social network e con vari account aperti per l'occasione veramente una persecuzione indicibile e poi vediamo che le forze dell'ordine sono riuscite a prevenire una serie di delitti stavano preparando furti nelle abitazioni fermate due ragazze siamo sempre in Ancona si aggiravano con fare piuttosto losco tra i palazzi del quartiere il che ha suscitato l'attenzione dei residenti i quali hanno segnalato due ragazze una di 26 è una di 22 anni di origine croata appunto alle forze dell'ordine è accaduto nella mattinata di ieri in via Colleverde ad Ancona quindi sono subentrati i poliziotti e quindi hanno agito nei confronti di queste due ragazze allontanandole appunto dai quartieri che stavano visitando questo per quanto riguarda la cronaca ma c'è anche una notizia di spalla interessante truffe agli anziani i carabinieri nelle parrocchie non si finisce mai di porre in attenzione specialmente gli anziani dal rivalersi da fare molta molta attenzione a chi li vuole truffare i carabinieri della compagnia di Ancona hanno realizzato un incontro con la cittadinanza nei locali delle chiese di Ancona ebbene i cittadini hanno potuto vedere e ascoltare come le truffe vengono commesse dalla telefonata in cui i malfattori simulano di essere carabinieri o avvocati fino ad arrivare ai più moderni tentativi di pishing con sms o email passando per i metodi più classici dei finti operatori di società di distribuzione del gas dell'Enel oppure incaricati del comune i partecipanti sono stati messi in guardia sulle tecniche di azione dei malviventi che sono sempre in aggiornamento sono sempre più persuasive quindi bisogna fare la massima attenzione soprattutto c'è una regola assoluta non fare mai entrare gli estranei in casa perché una volta dentro chiunque può magari distraendo il proprietario appropriarsi dei beni dello stesso ovvero ori ovvero contanti tutto ciò che di prezioso può essere sottratto velocemente dai cassetti di un armadio apriamo ora la pagina del Corriere Adriatico la pagina di Pesaro è dedicata all'incidente che si è verificato in località Cannelle abbiamo qui anche delle fotografie vediamo l'auto estratta dal fosso in cui è caduta si tratta della Golf che è precipitata a Rio Secco parapetto sfondato auto giù nel fosso tre giovani feriti uno resta incastrato e sono stati sono intervenuti come abbiamo detto i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere una tragedia sfiorata questa per fortuna se la sono cavati a buon mercato i due che sono stati poi ricoverati al Torretti come abbiamo detto sono stati si sono dimessi subito senza essere soggetto alle cure ma potevano anche ammazzare qualcuno c'è stata pressione anche disappunto dei residenti che hanno dito le invocazioni di aiuto di coloro che erano finiti nel fosso che erano finiti nel rio secco e quindi si tratta sempre di lanciare appelli moderate la velocità non andate forte in modo particolare quando attraversate delle vie dove ci sono delle case dei tratti urbani magari anche della nazionale passaggi passaggi più fondi dalla regione un accordo politico bipartisan è un articolo che riguarda la conclusione del festival passaggi che per cinque giorni ha così arricchito Fano di tanti eventi di carattere culturale veramente in ogni sito dove si sono tenuti gli incontri del festival sono affluite tantissime persone in piazza 20 settembre Grimita di Gente al Pincio lo stesso al Chiostro delle Benedettine nella ex chiesa di San Francesco poi negli altri siti sempre tanta tanta gente attratti dai personaggi che sono intervenuti presentando i loro libri ma parlando di tanti tanti argomenti interessanti a partire dall'attualità da quello che sta accadendo in Ucraina da quello che sta accadendo in Russia soprattutto e poi l'arte la bellezza la politica insomma veramente passaggi si è attestato come l'iniziativa culturale più importante di Fano ma anche un'iniziativa importante a livello nazionale ed ecco perché nonostante che tutto questo insieme di eventi sia sostenuto soprattutto da oltre 120 da oltre 100 120 volontari che operano per l'organizzazione del tutto gratuitamente occorrono dei finanziamenti perché ovviamente qualche spesa è stata fatta soprattutto le spese di soggiorno di coloro che vengono spesso in modo così del tutto disinteressato a presentare i loro libri e sabato sabato dicevo sul palco di piazza 20 settembre sono apparsi due consiglieri regionali li vediamo qui nella fotografia si tratta di Marta Ruggeri capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale e Luca Serfilippi che è un consigliere regionale della Lega ebbene c'è un accordo bipartisan tra questo caso in questo caso maggioranza e opposizione per cercare di incentivare le risorse a favore del festival passaggi il comune di Fano ha messo a disposizione 80 mila euro probabilmente ne aumenterà aumenterà ancora la cifra a 20 mila euro fino a raggiungere 100 mila euro con l'assestamento di bilancio la regione invece ha dato un po' di meno al momento si parla di 40 mila euro anno scorso ne ha dati 90 mila euro ma anno scorso era il decennale della manifestazione c'è stato un supplemento di contributo aggiuntivo quest'anno si spera che ci sia qualcosa di più ecco perché i due consiglieri si sono impegnati entrambi uno di maggioranza e uno di opposizione a sostenere in modo più deciso questo festival che si vociferava potesse migrare a Senigallia dopo che l'accordo triennale con il comune di Fano quest'anno scade il prossimo anno dunque si rifarà a Fano ovviamente faranno di tutto perché questo si avveri veniamo ah c'è anche questa notizia piccolina ma è importante domani sera alle ore 21 nella chiesa di San Francesco il comune di Fano darà la cittadinanza onoraria a sua eccellenza Monsignor Armando Trasarti amministratore apostolico in questo periodo mavescovo della città per oltre 16 anni Don Armando se ne andrà Monsignor Armando se ne andrà nella sua fermo e il 9 luglio arriverà Monsignor Andrea Andreozzi nuovo vescovo di Fano siamo in conclusione vi segnalo soltanto questa notizia che riguarda Mondolfo iniziativa che fa comunità laboratori d'arte condivisi domani seconda serata del micro festival di questa cittadina e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento al Tg di questa sera condotto da Simona Zonghetti e domani la rassegna stampa alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci ordo a risentirci a risentirci a risentirci Grazie.